È in gravi condizioni l'operaio di 47 anni rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale a Cagnano Amiterno, comune dell'Aquilano. Un frontale che ha coinvolto due vetture, una Ford Mondeo e una Fiat Panda. L'impatto tra le due automobili è avvenuto nella frazione di San Pelino. Ad avere la peggio è stato l'artigiano romeno alla guida dell'Amondeo. L'uomo è stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico nel nosocomio aquilano e resta in prognosi riservata. Anche l'altro coinvolto è rimasto ferito, ma in maniera lieve. Al termine degli accertamenti che sono stati condotti dai carabinieri dell'Aquila, uno dei due uomini è stato anche denunciato per lesioni personali, dato che era alla guida in stato di alterazione psicofisica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il frontale è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.